Grazie. Allora, siamo qua e finalmente, dopo oltre un anno e mezzo, stiamo per votare la proposta di legge, un'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Finalmente, dopo settimane, forse mesi, forse anni di chiacchiere, modifichiamo le liberalizzazioni indiscriminate introdotte dal Governo Monti e diamo finalmente qualche soldo alle piccole imprese. Le liberalizzazioni degli orari e delle aperture commerciali vengono spacciate come volontà diretta degli stessi consumatori. Ma sono stati proprio gli stessi consumatori a bocciarle nel 1995, quando un referendum abrogativo confermò che i cittadini italiani non sentivano il bisogno di una nuova disciplina degli orari. Il 62,5% dell'elettorato rispose no. La nostra proposta di legge partiva quindi da questo presupposto. Confesercenti è stata l'organizzazione che ha lanciato l'allarme con più forza e ha infatti stimato che per il 2013 un saldo negativo di bar, ristoranti, negozi di moda, abbigliamento, alimentari eccetera, di quasi 5.000 unità. Secondo l'Istat, dal 2011 ad oggi, i consumi delle famiglie italiane sono calati di circa 50 miliardi di euro. Quindi, complessivamente, abbiamo verificato che le aperture festive non hanno fatto aumentare le vendite, ma hanno costruito un aggravio per i costi dei negozianti, insostenibile per i piccoli negozi, a cui rimane l'alternativa tra fallire e chiudere l'attività o restare chiusi durante le festività, cedendo sempre più fette di mercato alle grandi distribuzioni, aperte invece 365 giorni all'anno, grazie allo sfruttamento dei lavoratori. Quindi, l'unica vera evidenza economica di queste liberalizzazioni è il passaggio di business dai piccoli ai grandi. Non si tratta di aprire uno scontro tra piccola e grande distribuzione, tra negozio di vicinato e grandi centri commerciali, ma di riconoscere che il piccolo negozio sotto casa ha un valore che va anche al di là del suo aspetto economico e che, pertanto, va sostenuto. Di riconoscere anche che a tutti i lavoratori vanno garantiti gli stessi diritti. La nostra proposta di legge iniziale cercava di trovare una soluzione a tutto questo, ma purtroppo è stata anacquata. Il nostro obiettivo era l'abolizione delle liberalizzazioni di Monti e le sole sei chiusure festive all'anno garantite all'interno di questo testo sono poche, sono pochissime. Ci auguriamo che nel corso del passaggio al Senato, campacavallo, la maggioranza riveda questa posizione, ma comunque siamo lieti che, grazie a noi, almeno sia stato sancito il principio che le liberalizzazioni delle giornate di apertura devono comunque avere un minimo di regole e non hanno portato i benefici sperati. Siamo contenti anche del fatto che, intanto, sempre grazie a noi, si sia tornati a discutere in queste aule della crisi del commercio e del futuro del settore e soprattutto che, grazie alla nostra battaglia, alla fine si sia trovato un fondo di 18 milioni di euro all'anno a sostegno delle piccole imprese del commercio. Il sostegno alle piccole e medie imprese è il secondo punto del programma del Movimento 5 Stelle, dopo il reddito di cittadinanza, perché crediamo che da qui, dal combinato di queste due misure e queste due proposte, il nostro Paese possa davvero ripartire, quindi da un reddito di cittadinanza che rilancia i consumi e dal sostegno alle imprese rimaste sul nostro territorio, o almeno quelle poche che sono rimaste, che sono la spina dorsale della nostra economia. Il fondo a sostegno delle micro imprese e del commercio significa anche sostenere il lavoro, perché pur nella crisi il commercio ha sempre contribuito alla crescita dell'occupazione e ha assorbito la disoccupazione giovanile. Ancora oggi molti giovani della mia età, in mancanza di lavoro, tentano anche la strada dell'imprenditoria, del commercio, anche se poi questa azienda è difficile mantenerla in vita. Fino a qualche anno fa, l'età media delle imprese e delle piccole imprese, fatte anche da ragazzi, erano di 14 anni, ora rimangono in vita, se va bene, massimo tre anni. Questa proposta di legge significa dunque un sostegno concreto all'occupazione, pari a 18 milioni di euro all'anno dal 2015 al 2020, per un totale di 90 milioni. Questo fondo, che si affianca al fondo di garanzia per le imprese, dove già versiamo una quota del taglio dei nostri stipendi parlamentari, è un altro contributo concreto del Movimento 5 Stelle. Definitiva questo provvedimento è per noi e per il settore una vittoria. Ma ci auguriamo che comunque sia solo un inizio e che anche il Governo capisca, forse un giorno, l'importanza di attivarsi con iniziative concrete per il commercio, perché non c'è più tempo per aspettare la fantomatica agenda di Renzi di mille giorni. Grazie.